benvenuti alla lezione di teoria numero 4 adesso ci occupiamo degli altri due esercizi simili al numero 5 6 pagina 17 e abbiamo quindi stavolta le stesse combinazioni però per moto retto andiamo a vedere e allora numero 7 pagina 17 velocità 88 alla semi minima col punto e e e e e e e E allora passiamo al numero 8, pagina 18, velocità un po' più elevata, 116. Bene, stesse cose già dette per gli altri esercizi, allora buono studio e buona musica. Grazie. Grazie.